Cambio giocatori, cambio allenatori, fa sempre dei grandi risultati, quindi chapeau questa squadra, veramente anche ieri sera a quattro... Non fare come Cassano, con chapeau. Mi è piaciuto. Non seguo Cassano, devo essere onesto, non mi piace. No, però è diventato abbastanza famoso per lo chapeau. È arrivato un messaggio, se non reagiscono la SPAL non fa gol, e Fogli e D'Agnelli non fanno le simulazioni dei gol, cosa che mi manca molto. Allora intanto promettiamo che se c'è il gol facciamo la simulazione del gol. Che altre battenti le fanno sulle lavagne? Lo procuro, lo procuro. Diceva Fogli l'anno scorso, è meglio perdere una partita 3-0 che 3 partite 1-0, no? Erano sulle 5 partite, però il succo è quello. Meglio perdere una volta 5-0 che 5 volte 1-0, ma vale anche col 3. Max, alla fine uno dice, forse per leggere un attimo dai Fogli cantaci qualcosa. Eh, manca troppo poco. Magari nel post-serata chi c'è?